Venerdì 29 gennaio alle ore 22, alla clac del Teatro della Tosse di Genova, la Bernarda Production, dopo aver sfornato Mazinga Zetto e Idina, vi servirà BOLLITO MISTO con Gioan Rango, Il Dottorase e Baciccia Deferu. Il tutto condito da trailer veri di film immaginari, ricchi cabaret di stuzzichini impegnati al gusto iconoclasta della Bernarda Production. Vi aspettiamo. Secondo me è venuto bene, secondo me è venuto benissimo.